Penso che sia mancato un po' tutto, un po' cattiveria, intensità e niente, è difficile parlare dopo una prestazione del genere, sicuramente siamo dispiaciuti e tristi e dobbiamo sicuramente cercare di fare molto molto meglio. Sicuramente è un episodio che magari ti dava la carica per spingere gli ultimi minuti, però non ci possiamo attaccare a questo perché comunque abbiamo avuto altri 80 minuti per cercare di fare molto di più e non ci siamo riusciti. Sicuramente lavorare a testa bassa, cercare di migliorare qualsiasi cosa con umiltà e rispetto e cercare di fare molto meglio di oggi. Grazie